Quando Martina Mugavero di Minerva mi ha chiesto di cercare una frase, una parola, dal libro che ho scritto per loro per trovare un messaggio da mandare in questi giorni un po' complicati, mi sono chiesta cosa ci sarà dentro una guida. E poi mi sono ricordata di un momento, ehi Cor, Cor è la protagonista, in cui si entra nel chiostro di Santo Stefano e scrivo senti che silenzio, non sembra neanche di essere in città. Ecco questa è la parola chiave che oggi mi piace sottolineare, silenzio. Silenzio che normalmente ci manca tanto e in questi giorni torniamo ad ascoltarlo. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è fare spazio, fare spazio a tutte le cose meravigliose che sono intorno a noi e che di solito non trovano troppa folla per poter entrare. Il silenzio è poter sentire il pelo del mio cane, fare spazio alla voce di un amico, fare spazio all'ispirazione, a un disegno, alle parole di un libro, a dei pensieri nuovi, belli. E anche fare spazio alla musica. Così, con Giovanni Manna, che è l'illustratore di questa guida, abbiamo pensato oggi di assaporare in silenzio un nuovo disegno. e anche fare spazio alla musica. 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 devolveremo un euro a favore della fondazione. Doniamo insieme su www.minervaedizioni.com Grazie